Massa Carrara torna ad essere teatro di tragedia. A quasi un mese di distanza dall'incidente avvenuto nella cava Antonioli a Colonnata, dove persero la vita Federico Benedetti e Roberto Ricci, un nuovo dramma si è abbattuto sul mondo del lavoro. Un'altra vittima del marmo, come molti quotidiani, hanno titolato questa mattina la morte di Carlo Morelli, operaio di 61 anni e residente a Marina di Carrara, rimasto schiacciato da una lastra di marmo all'interno di un laboratorio nella zona industriale di Massa. L'uomo, secondo le prime ricostruzioni realizzate dall'ASL, stava caricando insieme ad alcuni compagni di lavoro alcune lastre di marmo, quando all'improvviso è stato travolto dal carico. Sono stati i colleghi a dare il disperato allarme, per Morelli però non c'è stato nulla da fare, è deceduto poco dopo l'arrivo all'ospedale di Massa. Siamo di fronte a una vera e propria carneficina, così il presidente della regione toscana Enrico Rossi ha commentato la triste notizia. Potenziamo i controlli, la prevenzione, la vigilanza e l'assistenza che sono di competenza della regione. Ha poi proseguito il governatore, ma nessuno dimentichi l'articolo 18 della legge 81 sulla responsabilità e gli obblighi dei datori di lavoro per la sicurezza dei lavoratori. La Toscana unita per combattere il gioco d'azzardo. Il fenomeno della ludopatia colpisce anche i giovani tra i 15 e i 19 anni. Uno studio recente ha dimostrato che uno studente toscano su tre ha provato almeno una volta qualche gioco, dalle slot machine alle scommesse ai giochi su internet. Nella zona del Val d'Arno la ludopatia colpisce più che in altre zone. I sindaci dell'area fiorentina e di quella di Arezzo, accompagnati dai rappresentanti di Libera, hanno incontrato l'assessore regionale alla salute Stefania Saccardi. Insieme a loro anche il consigliere del presidente della regione, Enzo Brogi, che ha sottolineato come la battaglia contro il gioco d'azzardo si giochi su diversi aspetti. Combattendo culturalmente, oltre che con gli strumenti di legge, la dipendenza dal gioco d'azzardo, diamo anche un forte risposta alla illegalità. Per questo dobbiamo impegnarci tanto, per questo dobbiamo alzare la voce anche verso il governo centrale, perché si cerchi di riconquistare credibilità anche in Europa. Siamo i primi in Europa per gioco d'azzardo. I sindaci del Val d'Arno hanno chiesto a Saccardi un'applicazione più rigorosa della legge regionale, sul gioco consapevole e la prevenzione della ludopatia. Saremo molto rigidi sul controllo delle normative per la collocazione delle slot machine nella distanza prevista dalla legge, dai luoghi socialmente sensibili, le scuole, le parrocchie, i circoli. Saremo attenti ad incentivare, anche attraverso sgravi di carattere fiscale, i locali che decideranno di non avere al loro interno le slot machine. Oltre a questo, la regione sta creando anche un logo non slot da affiggere sui locali che decidono di fare a meno delle slot. Il governo, per la prima volta quest'anno, ha messo a disposizione 50 milioni di euro per la cura del gioco d'azzardo patologico. Fiori rossi e tanta commozione al funerale di Giorgio Pacini, uno degli ultimi partigiani, scomparso a Firenze all'età di 94 anni, sala d'arme gremita in Palazzo Vecchio a Firenze, come da anni non accadeva per una cerimonia funebre, per omaggiare un protagonista della storia cittadina. Pacini prese parte anche all'eliminazione dei franchi tiratori appostati sui tetti di Firenze durante la ritirata dei nazi fascisti. Nel corso della cerimonia, alla presenza del presidente del Consiglio regionale, Eugenio Gianni, e del sindaco di Firenze, Dario Nardella, il figlio di Pacini, Alessandro, ha ricevuto dal prefetto Alessio Giuffrida la medaglia di liberazione in omaggio alla memoria del padre. Il mio padre era un personaggio molto carismatico, e quindi è stato difficile anche seguirlo nelle orme. Io faccio tutto un altro lavoro, però insomma sono orgoglioso assolutamente di essere figlio di Giorgio Pacini. Commozione e ricordi lontani nel tempo, ma ancora presenti nella mente di chi, insieme a Pacini, ha combattuto. Il mio ricordo più bello insieme è stato la liberazione di Firenze. Quando noi entrammo qui nella città, non abbiamo ancora avuto le 60.000 donne che hanno partecipato alla resistenza. Alla fine uno scroscio di applausi e bella ciao intonata dai partigiani presenti per accompagnare Giorgio Pacini nel suo ultimo viaggio.